Il concetto di diritto penale del nemico ci riporta al pensiero di Gunther Jacobs ma con una puntualizzazione estremamente importante. Oggi non si tratta più di un criterio di interpretazione rivoluzionario, addirittura antitetico al modello del diritto penale classico della materia penale. Si tratta di una tentazione serpeggiante non solo nella legislazione penale italiana ma sicuramente nella legislazione penale italiana che oggi merita particolare attenzione nella sua declinazione del diritto penale del nemico sociale, per usare una felice espressione di Fausto Giunta, anche e soprattutto il rapporto ai suoi ricorrenti e sempre più preoccupanti tentativi di legittimazione. Prima di tornare alle caratteristiche del diritto penale del nemico una breve premessa che si riporta e ci riporta alla natura e alle caratteristiche estrinseche, non solo estrinseche, degli interventi legislativi di matrice penalistica degli ultimi decenni in Italia. Essi svelano un dato comune ricorrente tradendo una tendenza all'uso strumentale, simbolico e pletorico del diritto penale. Una tendenza strumentale perché il diritto penale recente è diventato inequivocabile medium di politiche criminali di tolleranza zero verso i diversi, i nemici dell'ordine, della sicurezza, del decoro delle strade o nel senso più ampio del termine la nostra cultura. Anche la minoranza potrebbe essere prima o poi un nemico da perseguire proseguendo verso questa china scivolosa. Stiamo parlando di un diritto penale del nemico sociale, secondo una felice espressione di Fausto Giunta al cui pensiero mi ricollegherò tra qualche minuto. Un uso simbolico del diritto penale, dicevo. La tecnica di formulazione delle fattispecie incriminatrici si traduce sempre più spesso in previsioni farraginose, irragionevoli e non di rado pesantemente sanzionate, oscure dal punto di vista teorico ma ancor più da quello applicativo e spesso caratterizzate da un'anticipazione a dir poco generosa se non spiazzante della tutela penale. Lo strumento penale è poi pletorico, siamo lontanissimi dal modello del diritto penale minimo. La proliferazione infestante delle norme penali di nuovo conio si affianca troppo di frequente all'ambito di operatività per così dire naturale dell'illecito punitivo amministrativo comunque degli altri rami del diritto. Pensiamo al settore del diritto penale dell'immigrazione, settore paradigmatico sotto tutti i punti di vista. L'invadenza di queste scelte di incriminazione rivela da un lato la connessione cruciale tra scelte di politica criminale e modelli di democrazia e dall'altro un processo di atrofizzazione crescente dei fondamentali diritti di libertà sia del nemico che beninteso del cittadino. Il cittadino accetta spesso reclama una restrizione delle sue libertà in nome della sicurezza vista la propalazione di messaggi allarmistici d'opera dei media sulla paura del crimine. Il nemico per contro in un assetto del genere viene privato di ogni status non solo di cittadino ma anche di essere umano. Pensiamo alle involuzioni che si sono verificate sul piano della tenuta dei diritti umani negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti dopo gli attentati alle torri gemelle nel 2001. Pensiamo a vicende come quelle di Guantanamo e di Abu Ghraib con fenomeni di torture inaccettabili che ci riportano al medioevo dei diritti umani. episodi analoghi peraltro si sono verificati di recente anche in Italia con considerazioni che ci porterebbero però lontano dal seminato già impegnativo e irto di ostacoli del diritto penale del nemico. Il rapporto ai profili di cui stiamo parlando l'impressione per nulla rassicurante è appunto quella del ritorno al diritto penale del nemico di matrice jacobsiana. Un diritto penale fondato essenzialmente, una rivoluzione culturale, sull'esigenza di neutralizzare categorie di soggetti pericolosi, il recidivo, il clochard, il clandestino, il terrorista. Certamente lo schema del diritto penale del nemico come formulato da Gunther Jacobs non è altro, per la serie corsi e ricorsi storici, che il vecchio schema del nemico del popolo di staliniana memoria. Non è altro che una rivisitazione del diritto penale nazista del tipo di autore. Anche qui nulla di nuovo sotto il sole, abbiamo una tradizione antica e ricorrente di dispotismo penale inaugurata dai crimina maiestatis. Quali sono le caratteristiche genetiche del diritto penale del nemico? Abbiamo tre elementi degni di nota. Il primo elemento che consente di identificare un sintomo grave di diritto penale del nemico è l'appartenenza del tipo d'autore a una categoria soggettiva. Lo status del soggetto attivo diventa così elemento costitutivo di quella identità dell'autore che è indispensabile per avviare una contrapposizione tra autore e potenziale vittima. Una relazione nemicale. Secondo elemento indiziante della presenza del diritto penale del nemico e delle caratteristiche cooperative del diritto penale del nemico è la de giurisdizionalizzazione del processo di applicazione della risposta sanzionatoria come conseguenza della criminalizzazione di uno status. Certamente una volta che non si è in gioco come si è detto l'accertamento della responsabilità individuale per la commissione di un fatto l'esigenza di un giudizio parte da parte di un organo terzo viene meno. Mi viene da pensare ai nuovi centri di permanenza e di espulsione costruiti come lager in zone a bassissima densità abitativa e dotati di sorveglianza armata. Ma veniamo al terzo elemento indiziante del diritto penale del nemico che è un elemento che ci riguarda molto da vicino a sé consideriamo gli interventi e le caratteristiche degli interventi di matrice penalistica degli ultimi decenni. L'adozione di una risposta sanzionatoria che tende alla eliminazione o alla neutralizzazione del nemico sia attraverso la consuetudine dell'esorbitanza dei limiti penali di una sanzione che è dei limiti editali di una sanzione che è ancora ossessivamente carcerocentrica sia attraverso il divieto assoluto di benefici penitenziari. Pensiamo alle polemiche sulla natura certamente incostituzionale ma ritenuta necessaria del carcere ostativo. Anche questo argomento ci porterebbe molto lontano non possiamo che limitarci ad un accenno. La combinazione di queste caratteristiche deleterie determina come osservato anni fa da Mireille del Mamarty un processo di vera e propria militarizzazione del diritto penale rispetto a specifiche forme di criminalità come in tempi recenti quella di matrice terroristica difficilmente contestualizzabili a priori. Possiamo definire guerra quella al terrorismo o se pensiamo a quello che è accaduto negli Stati Uniti dopo l'11 settembre non è più opportuno parlare di lotta senza quartiere sottratta a leggi e convenzioni internazionali secondo lo schema addirittura del nemico asimmetrico teorizzato da certa dottrina. Ovviamente siamo su una china scivolosa. Da qui alla naturale espansione dello strumento penale verso la ricerca di altri nemici della società il passo è brevissimo e sotto questo punto di vista le norme anche penali in materia di repressione dell'immigrazione clandestina pensiamo al recentissimo decreto cutro confermano questa impressione dando la stura alle supposizioni più diverse e alle supposizioni meno rassicuranti. Chi è il nemico? Lo straniero che oggi suscita questa inquietudine nelle società postmoderne imbarba alla considerazione che l'immigrazione è nata insieme all'essere umano ma è nemico solo lo straniero o non anche il terrorista o non anche il brutto sporco cattivo delle società postmoderne che sia clochard, clandestino, extracomunitario. Abbiamo una sorta di calogacatia che distingue i buoni dai nemici e testimonia l'involuzione anche a livello penalistico delle moderne categorie di giudizio. E proprio per questo è facile comprendere per quale motivo già nel 2010 Domenico Pulitano disse con parole fondamentali come la repressione penale dell'immigrazione clandestina sia diventata oggi cifra ideologica del diritto penale della diseguaglianza. Concludo però questo mio intervento con alcune parole fondamentali di Fausto Giunta tratte dal suo ultimo volume intitolato l'eccezione come regola nel diritto penale. Il garantismo ha perso la sua lucentezza di valore irrinunciabile per diventare irsuto agli occhi di una comunità sociale che complice il tramonto delle grandi ideologie ha subito la fascinazione del populismo anche nella sua versione giudiziaria. L'offesa ha smarrito la necessaria centralità culturale a favore di programmi di tutela eticizzanti. Un'impronta totalizzante caratterizza il diritto penale del nemico sociale, il quale, etichette a parte, non è certo un'invenzione contemporanea. La novità, dopo l'attacco alle torri gemelle, sta nella pretesa di una sua legittimazione.